Carissimi amici e amiche, bentornati dopo un pochino di tempo e un po' di pausa a questo ciclo di catechesi sui Novissimi, che sta puntata cade nel mercoledì delle Ceneri, una giornata bellissima, anche se di carattere penitenziale, perché si proietta già in questo tempo di straordinarissima grazia, quale quello della Quaresima, e anche se è un po' fuori tema, invito tutti coloro che stanno seguendo la diretta o che ascolteranno entro questi giorni questa puntata di gettarsi alla grande dentro questo tempo di grazia per trarne il massimo frutto possibile, perché questo è veramente un tempo eccezionale, affidato alla nostra responsabilità per la nostra conversione e santificazione. Noi ci siamo appunto lasciati con la prima puntata dedicata al limbo, quindi alla posizione un po' del problema, e a vedere quali sono, diciamo così, le problematiche in gioco connessa a questo tema, che come abbiamo già detto e visto, a differenza degli altri, diciamo così, tre, chiamiamoli in questo modo luoghi ultraterreni, quindi inferno, paradiso e purgatorio, non gode come loro di una definizione dogmatica definitiva e vincolante. Quindi mentre se una persona nega che esiste l'inferno, il purgatorio e il paradiso, non è in comunione con la fede divina e cattolica, non essendo il limbo tecnicamente un dogma di fede, ma come vedremo, alla luce di quello che stiamo esaminando, lo si dovrà definire come dottrina comune nella tradizione della Chiesa, è anche abbastanza pesantuccia, perché è acclarata da alcune definizioni abbastanza forti, il che significa che chi nega una dottrina comune incorre in quello che si chiama tecnicamente il pericolo, che non è un pericolo, cioè realmente è questa cosa, si chiama la dottrina temeraria, la dottrina temeraria è quella che formula una proposizione di fede in contrasto con ciò che dalla maggior parte degli autori e anche presi interventi magisteriali nel corso della storia è stato ritenuto e creduto. Ora, che il limbo non esista sono asserzioni che sono state formulate anche con una certa autorevolezza, ma negli ultimi 30-40 anni, 50 forse, ma prima nessuno aveva mai messo in dubbio, lo vedremo stati, detto nel Catechismo di San Pio X, l'esistenza di questa condizione. Ecco, questo perché sia chiaro, insomma, così ci riagganciamo perché il primo escursus che stavamo facendo, dopo aver visto nella saga scrittura l'esistenza dello sciolla, aver distinto il limbo dei santi padri dal cosiddetto limbo dei bambini, abbiamo cominciato a vedere i documenti magisteriali, che ricordo sono in totale cinque per quanto riguarda concili e affermazione di papi. Avremo due concili, che tra l'altro abbiamo già visti, che sono Lione II e Firenze, e tre papi. Innocenzo III, che abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo chiuso la puntata con l'analisi della sua lettera a Imberto Di Arle, Giovanni XXII, che vedremo oggi, sì, certamente, e Pio VI. Pio VI, tra l'altro, ovviamente, sti papi che si chiamano Pio, perché Pio VI è un altro papa santo, anche se non canonizzato, io proprio nella settimana degli esercizi della scorsa settimana ho avuto modo di conoscere, ce li ha rivolti il predicatore, alcune aspirazioni e diffusioni di amore, slanci di amore a Dio, scritti da Papa Pio VI, che sono veramente bellissimi. Quando esce dal cuore una roba del genere, chi li ha scritti, certamente, difficilmente può essere annoverato tra i grandi peccatori, insomma, altrimenti non gli uscirebbero fuori dal cuore cose così belle. Allora, andiamo a vedere il concilio di Lion II, quello lo dico sempre ogni volta che ero critico, che lo cito, scusate, a questo concilio avrebbe potuto partecipare San Tommaso da Quina e San Bonaventura da Bagno Reggio, quindi due mostri sacri, ovviamente, non solo della teologia medievale, ma della teologia in assoluto, perché sono due dottori veramente impressionanti, anche se evidentemente poi San Tommaso da Quina ha avuto fama e sorte molto più risonante, molto più diffusa di San Bonaventura, che peraltro però si conoscevano e si stimavano l'uno con l'altro, anche perché tutti e due insegnavano alla Sorbona di Parigi, al luogo che era il centro dell'intelligenza, ecco, della teologia medievale, e tutti e due sono morti andando al concilio di Lion, quindi rimane questa cosa, non sapete che quante volte ci ho pensato, ma se fossero andati anche loro, ma che sarebbe uscito fuori da sto concilio? Ecco, non c'erano e quindi ci accontentiamo di quello che è uscito fuori, che va bene lo stesso, no? Allora, riguardo il nostro tema, il concilio di Lion ha un'affermazione, si trova nel Densinger, al numero 858, di questo tenore, è una molto breve, però molto esplicita. è meglio leggere da un pochino prima, perché altrimenti non si capisce, no? Perché leggiamo da 856, che è appunto il paragrafo dedicato alla sorte dei defunti, e dice così, se coloro che fanno sinceramente penitenza sono deceduti nella carità prima di aver pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse, questo l'abbiamo già letto, se ricorderete, a proposito del purgatorio, però dobbiamo forza di nuovo recitarlo, le loro anime sono purificate dopo la morte, così come ha chiaramente esposto frate Giovanni con pene che lavano e purificano o e a sollevarli da pene di tal genere giovano loro i suffragi dei fedeli viventi, vale a dire i sacrifici, delle messe, le preghiere, le lemosine e gli altri esercizi di pietà che sono soliti farsi, secondo le indicazioni della Chiesa da dei fedeli a vantaggio di altri fedeli. Quelli che, attenzione, così rimaniamo in tema penitenziale, coloro che fanno sinceramente penitenza, i peccatori che si pentono e muoiono nella carità ma ancora non hanno purificato sufficientemente la loro anime. Questi vanno in purgatorio e possono essere guidati dai suffragi, questo detto in in due parole. Le anime poi di coloro che dopo aver ricevuto il santo battesimo non sono in corse mai nessuna macchia di peccato e anche quelle che dopo aver contratto la macchia del peccato, secondo quello che è stato detto sopra, sono state purificate sia quando erano ancora nei loro corpi, sia quando di questi erano state spogliate, subito sono accolte in cielo. quindi chi ci va in cielo i bambini battezzati prima che possano colpire peccati oppure coloro che pur stanno in grazia però con le penitenze fatte in vita ecco perché Santa e Buona Guaresima a tutti hanno espiato, quindi si sono sufficientemente purificati delle colpe oppure quelli che vengono purificati dopo la morte, quindi quelli che passano in purgatorio. sappiamo bene che il senso della penitenza cristiana è anche espiatorio e purificatorio. Amici cari leviamoci dalla testa io queste cose ve le dico perché le voglio bene anche se può sembrare un discorso alle orecchie sgradevoli. Non si va in paradiso se si è macchiati anche della minima imperfezione involontaria non espiata. Non si può stare al cospetto di Dio in questo modo non è proprio possibile e quindi abbiamo due possibilità o darci da fare qui con le penitenze volontarie volontare significa sia quelle liberamente scelte da noi ecco perché c'è la quaresima ogni anno ogni quaresima che facciamo noi dovremmo affinare un pochino di armi e quindi come dei guerrieri ben attrezzati sapete che piano piano ci andiamo a formare il nostro arsenale arsenale perché noi stiamo in guerra contro i diavoli e anche perché abbiamo molto lavoro da fare per la gloria di Dio e anche per la purificazione dei nostri cuori e ci vogliono le armi e uno non c'ha tutti quanti quei soldi per comprarsene tutti insieme quindi a ogni quaresima si compra qualche altra arma adesso usiamo il linguaggio militare prima di compri un po' di pistole poi di compri un po' di fucili poi un po' di carabine poi un po' di fucili a canne mozze poi un po' di kalashnikov di mitragliatrici poi ti compri un bazooka poi ti compri un cannone e poi ti compri anche un F-22 che gli aerei che hanno gli americani che sono terribili e poi puro comprare la bomba atomica qui più il nostro arsenale è fornito meglio è certamente il rifornimento non lo fa nessuno al posto tuo se tu che lo fai se c'hai voglia e se c'hai a mio avviso quel minimo di buonsenso che suggerisce di fare dei buoni rifornimenti altrimenti in paradiso non ci andiamo non per direttissima andremo in purgatorio lo ribadiamo dove si soffre di più molto di più per molto più tempo perché la minima delle pene del purgatorio facciamo ripasso è superiore alla massima delle pene che possiamo avere in questa terra e il tempo che scorre in purgatorio è infinitamente lento rispetto al nostro per chi conosce Teneramata stiamo su frequenze d'accordo presumibilmente li stanno su frequenze molto molto più basse rispetto al nostro secondo che scorre quindi le testimonianze di chi è stato che vengono dal purgatorio dicono che persone che erano state due tre quattro ore in purgatorio si lamentavano come se ci stessero da una vita e quando qualcuno gli dice ma sei morto da cinque ore che stai già lamentando cinque ore risponde ma a me mi sembrano cinquant'anni ecco quindi comprendiamole queste cose io le dico così come le ho ricevute per il vostro bene cioè come spiego tante volte a me piacerebbe molto poter dire tranquilli non vi preoccupare cioè adesso per carità in grazia di Dio va bene ma una volta che uno sta in grazia di Dio non si deve preoccupare perché il resto non serve ah io sarei la persona più felice del mondo di poter dire una cosa di questo genere no sarei sicuramente anche un po' più simpatico e certamente mi farebbe un pochino più piacere perché saprei di non dare come dire umanamente parlando brutte notizie ma siccome così non è io sarei un pessimo sacerdote se dicessi altro rispetto a quello che sto dicendo e anziché aiutare le anime le porterei in braccio a dolori inauditi che poi quando se ne stanno purgatorio non credo che un purgatorio si possano mandare gli accidenti però qualche cosa insomma dice certo che ho dato retta a quello era meglio che davo retta a qualcun altro no? ecco allora quindi questo è il secondo step terzo step le anime che è quello che ci interessa più da vicino le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attenzione o con il solo peccato originale subito discendono all'inferno anche se punite queste orase con pene differenti allora penso che ci siamo già detti nella puntata precedente che nella saga scrittura inferi e inferno a volte sono sinonimi a volte sono distinti cioè a volte si usano scambievolmente come in questo caso qui con inferno designa sia quello che si chiama tecnicamente l'inferno dei dannati sia quello che nella saga scrittura chiamano sceolo ossia il regno dei morti non è l'inferno dei dannati vanno all'inferno per essere puniti con pene diverse quali sarebbero queste pene diverse vedremo che qui parla di bambini battezzati eh no scusate di bambini non battezzati chi muore con il peccato mortale e questi sicuramente si dannano e chi muore invece con il peccato originale possibile la dannazione eterna quindi supplizi eterni per un bambino non battezzato non è assolutamente possibile di pugna anche alla retta ragione perché una retribuzione quale i tormenti è dovuta chi se la merita una persona che non ha fatto nessun peccato non si merita i tormenti eterni quindi quali sarebbero queste pene diverse ora siccome all'inferno ricorderemo ci sono due pene la pena del danno che c'è anche purgatorio per la verità cioè la privazione della visione di Dio la visione beatifica e la pena del senso cioè dei tormenti che nell'inferno sono retributivi quindi sono ciò che ti sei meritato per giustizia e a cui dalla divina giustizia è consentito ai demoni di tormentarti non più di quanto ti sei meritato nel purgatorio queste pene sono non retributive ma purificatorie quindi servono semplicemente non a darti quello che ti sei meritato per tutta l'eternità ma a purificarti scrostarti pagare anche i debiti con la divina giustizia stando tu in grazia per poter accedere alla visione beatifica quindi quali sarebbero queste pene diverse se le pene sono due del danno e del senso è un bambino non battezzato non merita la pena del senso perché non può soffrire i tormenti per cose che non si merita ergo quali sarebbero queste pene diversi di queste due situazioni che in una c'è stanno la pena del danno e la pena del senso e nell'altra c'è solo la pena del danno che cos'è la pena del danno la pena del danno è la privazione della visione di Dio che è esattamente ciò che costituisce il quid del limbo non esistono altri posti di questo genere o meglio ne esiste uno che gli assomiglia e che è quello che chiamano mi ricordo se l'abbiamo parlato quando credo di sì spero di sì quando abbiamo parlato del purgatorio che è il cosiddetto prato fiorito oppure l'anticamera del paradiso cioè il passo più alto del purgatorio quindi quando si è giunti quasi al termine del processo di purificazione quando finiscono le pene del senso e rimane soltanto la pena del danno quindi l'arroventamento del desiderio di quest'anima già purificata che comincia a slanciarsi in tutto quanto il desiderio di vedere Dio ma ancora non può godere della visione beatifica questo somiglia un pochino al limbo con la differenza però attenzione che le anime del limbo non ci hanno avuto giudizio particolare come l'anima del purgatorio e quindi non avendo avuto giudizio particolare non sanno quello che si perdono con la visione beatifica cioè non hanno neanche idea come invece l'anima che comunque passa per il giudizio particolare un'idea se la fa i dannati se la sono fatta un'idea di quello che si sono persi non perfetta perché se avessero avuto una visione beatifica non sarebbero dannati ma quel tanto che basta per disperarsi per tutta l'eternità per quello che si sono persi e che intuiscono essere una cosa molto grande a differenza di noi che non abbiamo nessuna idea adeguata ordinariamente a meno che non diventiamo uomini di profonda spiritualità e preghiera di quello che ci si perde non avendo Dio noi quindi questa espressione punite con pene differenti è ha bisogno di una spiegazione inferno e limbo è la spiegazione evidentemente più immediata e ragionevole dinanzi a questo tipo di formulazione andiamo a vedere Giovanni ventiduesimo nella lettera agli armeni Densinger 926 anche qui è una variante sul tema quindi però aggiunge qualcosa rispetto a quello che ha detto il concilio di Lione ascoltate bene la chiesa romana insegna leggo dal 925 quindi sempre dal paragrafo precedente in verità le anime di coloro che dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo non sono cadute assolutamente in alcuna macchia di peccato e anche quelle che dopo aver contratto una macchia di peccato si sono purificate sia mentre erano nei corpi sia dopo se riuscite da essi sono subito accolte in cielo lo sappiamo già attenzione le anime invece di coloro che muoiono in peccato mortale o con il solo peccato originale attenzione discendono subito all'inferno per essere tuttavia punite con diverse pene e audite e audite in diversi luoghi ecco lo step in più non solo diverse pene diversi luoghi quindi già così si capisce che l'inferno è utilizzato non ipso facto come designante dell'inferno dei dannati ma la condizione appunto del regno dei morti che poi si diversifica in diversi luoghi quali? quello dove stanno i battezzati i non battezzati e quelli dove stanno i peccatori mortali i peccatori mortali stanno all'inferno qual è l'altro luogo dove stanno i bambini non battezzati la tradizione della chiesa nel corso della storia l'ha chiamato limbo ancora concilio di Firenze siamo balziamo al 1439 o il concilio di Roma nel 1274 la lettera di Giovanni XXII agli Armene del 1321 qui facciamo un altro piccolo step di un altro centinaio di anni qui quando si chiacchiera si va avanti quando si parla del passato si fanno i salti a centinaia di anni di come se niente fosse però e andiamo a vedere ci picchia cosa dice ci mancava soltanto che da vicino comincia a vederci poco che cosa dice il consiglio il consiglio il concilio di Firenze al numero 1306 anche qui ebbene comincerò a leggere un pochino prima anche se vedremo che si tratta di formulazioni analoghe a quelle che abbiamo già visto dal 1304 cioè la sorte dei defunti anche qui venete presente l'ho già accennato che sia il consiglio di Leone che il consiglio di Firenze vanno come obiettivo principale dichiarato quello di tentare la riconciliazione tra la chiesa latina e la chiesa orientale ortodossa scismatica evidentemente non ci vuole tanto a capirlo perché siamo ancora divisi quindi entrambi i concilii hanno fallito in questo tentativo inoltre l'attenzione qui è però qui c'è un qualcosa che tutto quello che viene detto in questo capitolo dedicato alla sorte dei defunti sta sotto una espressione pesante perché il consiglio dice inoltre definiamo definiamo è qualche cosa di di più significativo definiamo un'espressione tecnica quando si vuole appunto definire qualche volontà qualche scusate verità di fede allora definiamo che le anime dei veri penitenti morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso omesso sono purificati dopo la morte con le pene del purgatorio poi le anime dei veri penitenti non di quelli che fanno che fanno finta o che scherzano i veri penitenti sentite che belli sempre per rientrare nel tema quaresimale meglio così sono sono purificati sono purificati dopo la morte con le pene del purgatorio e riceveranno un sollievo da queste pene mediante suffragi dei fedeli viventi come il sacrificio della messa della preghiera delle lemosine e altre pratiche di pietà che i fedeli sono soliti offriti per gli altri fedeli secondo le disposizioni della chiesa poi 1305 ci avviciniamo verso la nostra meta quanto alle anime di coloro che dopo il battesimo non si sono macchiate di nessuna colpa e anche riguardo a quelle che dopo aver commesso il peccato sono state purificate o in questa vita o dopo la morte nel modo sopradescritto e si vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio uno e trino come egli è ma alcuni in modo più perfetto di altri a seconda della diversità dei meriti ricorderete che questo brano l'abbiamo ben commentato evidenziando con attenzione quando abbiamo la parola del paradiso non tutte allo stesso modo ma alcuni in modo più perfetto di altri a seconda della diversità dei meriti uno dei motivi per fare penitenza in questa terra è anche che le penitenze che facciamo qui sono meritorie non sono soltanto espiatorie purificatorie ma in quanto volontariamente abbracciate quindi e in quanto atti della virtù della penitenza che è una virtù cristiana molto importante sentite le anime dei veri penitenti essere penitenti è una virtù questo è un tempo per esercitarla o per acquisirla quindi questo perché ci sono dei gradi di gloria differenti i paradiso non stanno tutti allo stesso grado non stanno tutti nello stesso modo e davanti a Dio non ci sono preferenze di persone non ci sono figli dell'oca bianca contano solo i meriti acquisiti piaccia o non piaccia in paradiso vige la meritocrazia tu avrai esattamente quello che ti sei meritato sia in bene gradi di gloria che in male gravità e intensità dei tormenti sofferti a causa della malvagità dei demoni e su questo Dio è rigorosissimo non ti disciacchi la bocca andare a mescolare le carte la misericordia è un'altra cosa e non nega la giustizia ci cammina insieme ringraziamo Dio che ci sta la misericordia se noi eravamo tutti dannati ma il fatto che non siamo tutti dannati e quindi il Signore perdona il peccatore pentito non significa che non esiga giustizia e né tanto meno che il merito della persona non abbia su alcun valore siccome sono misericordioso io prendo il peccatore e una persona che ha vissuto per 80 anni in grado di grado di virtù e le metto allo stesso piano allora che cosa le ha vissuto a fare quello di 80 anni di virtù no? ora quello che ci interessa a noi invece le anime di quelle che muoiono in stato di peccato mortale attuale bello eh o con il solo peccato originale scendono immediatamente nell'inferno di nuovo per essere punite con pene diverse frase leggermente diversa dal concilio di Lione che dice pene differenti pene diverse o differenti c'è poca differenza ecco perdonatemi il giro di parole quindi ritorna la differenziazione delle pene per i peccatori che muoiono in stato di peccato mortale attuale cioè fatto con l'atto e quelli che muoiono soltanto con il peccato originale e quindi arriviamo infine a Pio VI e qui facciamo un balzo di molti secoli perché andiamo a ben tre secoli e mezzo oltre nel 1794 la famosa condanna delle proposizioni del sinodo eretico di Pistoia perché sinodi eretici si sono stati nel corso della storia della chiesa ecco allora nella costituzione autoren fidei dedicata appunto alla condanna di queste proposizioni eretiche di questo pseudo sinodo proprio di questa combriccola di eresiarchi che fu dice questo c'è proprio un paragrafo dedicato si titola così la pena per coloro che muoiono con il solo peccato originale a questa volta proprio specifica la dottrina che rigetta come favola pelagiana sto citando leggendo quel luogo degli inferi che i fedeli ovunque chiamano con il nome di limbo dei bambini nel quale le anime di coloro che sono morti con il solo peccato originale sono punite con la pena della privazione del fuoco come se in questo modo coloro che scludono la pena del fuoco introducessero quel luogo che è stato intermedio privato di colpa e di pena fra il regno di Dio e la dannazione eterna di cui favoleggiavano i pelagiani è falsa temeraria vedete offensiva per le scuole cattoliche questo non è che è stato abrogato nel corso della storia perché tutti quelli che oggi negano il limbo incorrono in questa censura stanno insegnando una dottrina definita falsa da un papa ok falsa vuol dire non vera temeraria perché osa sfidare secoli di tradizione è offensiva per le scuole cattoliche poi uno si regoli di conseguenza e faccia quello che crede quindi rigettare come favola pelagiana quindi favola inventata da pelagio grande eresiarca quello che negava la necessità della grazia per diventare santi ma bastava la buona volontà e fare delle grandi buone opere senza la grazia di dio e stop quindi sono punite con la pena della privazione senza la pena del fuoco qui cominciamo a stabilire un po' perché l'inferno dei dannati come sappiamo ha il fuoco dell'inferno lo diciamo tutti i giorni nel rosario quando facciamo l'invocazione di Fatima più i tormenti dell'inferno quindi c'è un luogo dove c'è la privazione di cosa della visione beatifica ma senza il fuoco e che cosa sarebbe questo stato è uno stato priva di colpa e priva di pena è uno stato fra il regno di dio e la dannazione eterna san tommaso d'aquino vedremo che definisce il limbo come un luogo dove si gode di una felicità naturale non è che le anime di limbo non è che stanno come dire dannate perché loro non sanno quello che si perdono quindi non patendo nessuna pena sensibile ma godendo semplicemente di una felicità proporzionata stanno discretamente non è che stanno male ecco perché viene chiamato uno stato intermedio tra il regno di dio il paradiso e la dannazione perché è uno stato intermedio perché i dannati sono dannati i beati sono beati le anime purganti non è uno stato intermedio perché le anime purganti sono candidate al paradiso quindi sono dei beati potenziali al momento ma uno stato intermedio dove non vedo dio ma non vedo i diavoli non godo dio ma non soffro i tormenti non c'è al di fuori del limbo e chi la definisce favola quindi cosa da non credere se è una favola incorre in una dottrina ripeto falsa temeraria offensiva per le scuole cattoliche quindi qui c'è una certa disinvoltura una certa disinvoltura con cui in età moderna è inevitabile questo sia un atteggiamento che si può bollare come modernista e questi prendono e e se ne infischiano cioè non è che siccome il concilio di Firenze è trovato nel 1439 uno dei 21 concili ecumenici detta questa cosa doveva essere trovato nel 1439 adesso le cose sono cambiate ma di cosa? la fede amici miei non cambia e queste cose oggi bisogna dire non sto alzando la voce adesso ma con una certa perentorietà la fede non cambia se qualcuno pensa di poter cambiare la fede per carità c'è libertà di pensiero non c'è possibilità di costringere nessuno ma se qualcuno pensa di poter cambiare la fede ha sbagliato ha sbagliato domicilio cioè nella chiesa cattolica questo pensiero non c'è la fede non cambia la fede viene nel corso del tempo compresa sempre meglio la fede eventualmente come dire si amplia nel senso che si va strutturando sempre meglio attraverso la formulazione di nuove definizioni di fede di nuovi dogmi questo sì ma una cosa che era ritenuta vera in passato non diventa falsa a un certo punto e viceversa il sesto comandamento non è diventato obsoleto perché c'è stata la rivoluzione sessuale del 68 quindi cominciamo prima con la tolleranza dei rapporti prematrimoniali poi con la tolleranza degli atti impuri solitari poi tolleriamo le convivenze poi tolleriamo i divorziati e gli sposati adesso tolleriamo tutto quanto il mondo omosessuale lgbtqfz e tutte le cose che dicono oh e mi tocca dire queste cose perché si sentono delle corbellerie delle castronerie delle mostruosità uscire da bocche di chi ha la pienezza del sacerdozio non solo da preti i sacerdozio c'è di essere i preti ogni tanto qualche prete che non c'è tutto col cervello no no ma pure da chi sta più in alto dei preti tradendo la missione che gli è stata affidata e come dire utilizzando l'autorità e l'autorevolezza che hanno ricevuto per il fine opposto a quella per cui l'hanno ricevuto perché loro sono stati costituti vescovi per difendere e diffondere il sacro deposito un fidei non per alterarlo quindi senza la pena del fuoco qui si viene ad unire quindi andiamo a vedere no pene diverse luoghi diversi niente pena del fuoco e favole pelagiane chi nega queste cose meglio scusate chi definisce favole pelagiane queste cose incorre nella censura di falso temerario di offensiva per le scuole cattoliche adesso andiamo a vedere un'altra cosa il catechismo di San Pio X qui con Pio VI stavamo poco prima della rivoluzione francese anzi non poco prima poco dopo la rivoluzione francese che è stata nel 1789 in pieno epoca post rivoluzionare con tutto quanto gli annessi e connessi dei Volterro e Bespiera e Company andiamo a vedere il catechismo di San Pio X come recepisce la tradizione della Chiesa domanda numero 115 che cosa ci insegna il quinto articolo di cesa all'inferno vedete anche qui Gesù non è andato non è mica andato nell'inferno dei dannati il terzo giorno di sussidò da morte che ci insegna questo articolo il quinto articolo del credo risposta ci insegna che l'anima di Gesù Cristo separata che fu dal corpo andò al limbo dei santi padri quindi questo è l'inferno in questa accezione generica e che nel terzo giorno si viene di nuovo al corpo suo per non separarsene mai più quindi l'anima visita gli inferi e porta negli inferi la bella notizia che la retenzione è compiuta e quindi aspettate un attimo che al momento della mia risoluzione si va tutto in paradiso 116 che cosa si intende qui per inferno per inferno si intende qui vedete il limbo dei santi padri cioè quel luogo dove erano trattenute le anime dei giusti aspettando la retenzione di Cristo abbiamo già parlato di questo quindi vado veloce oh e adesso qui 561 perché c'è anche il limbo dei bambini questo è il limbo dei santi padri quello a cui si fa riferimento nel simbolo apostolico di cesagli inferiore il terzo giorno è uscito da morte ma 561 quando si deve quando si devono portare alla chiesa i bambini perché siano battezzati risposte i bambini si devono portare alla chiesa perché siano battezzati il più presto possibile questo è il catechismo è una delle due versioni del catechismo del di San Pio X nell'altra è il catechismo dell'ottima cristiana si specifica non oltre il decimo giorno di vita anche qui adesso il catechismo di San Pio X è stato sostituito dal nuovo catechismo della chiesa cattolica carità ma siamo sicuri che una raccomandazione di questo genere contenuto in un catechismo della chiesa scritto da un papa santo possiamo mandarla nel dimenticatoio chi è che battezza i bambini il più presto possibile oggi dentro 10 giorni di vita alzi la mano vogliamo fare percentuale numero 1 per 1000 io sarei contattissimo se fosse l'1 per 1000 credo che da quando sono arrivato qui nessuno ha battezzato i bambini entro i primi 10 giorni se non una o due coppie non ricordo bene di persone che ho formato personalmente io il resto non c'è l'assoluto neanche tra i tre più vicini che fretta c'è 562 perché si deve avere tanta premura per far ricevere il battesimo ai bambini risposta si deve avere somma per premura per far battezzare i bambini perché per la loro tenere età sono esposti a molti pericoli di morire e non possono salvarsi senza il battesimo oibo non possono salvarsi senza il battesimo ma noi ci crediamo ancora che non possono salvarsi senza il battesimo che come era il titolo della precedente puntata chi non riasce chi non rinasce d'acqua e da spirito non ci entra nel regno di Dio non ci entra e ha voglia di dire ma si possono salvare anche i non cattolici purché facciano una vita secondo coscienza che si possano salvare certo a causa dell'amidazione della chiesa ma quando facciamo conto che ci sia un musulmano che non è a conoscenza della necessità di appartenere alla chiesa per essere salvati tutte quante le circostanze soggettive attenuanti quindi che è un musulmano che fa una vita onesta buona muore non può andare all'inferno ma secondo voi ma quando ci andrà in paradiso cioè il giudizio particolare e quindi poi la sorte di un non battezzato è uguale a quello di un battezzato io dicevo questa mattina durante un intervento a un emittente rogale a Lazio TV noi dobbiamo far funzionare il cervello la catechesi la teologia non è altro che l'applicazione del cervello per quanto possibile alle verità di fede stessa cosa il giudizio particolare di un battezzato di un non battezzato e se formuliamo queste ipotesi se anche una persona buona a parte il fatto che una persona per essere buona e per essere comunque decente fuori della fede divina e cattolica e degli aiuti dei sacramenti della confessione dell'Eucharistia ce ne vuole ma supponiamo si possa dare qualche caso di questo genere quando ci andrà in paradiso? subito? come quei santi che sono già purificati subito sicuramente no penso che siamo tutti quanti d'accordo e allora se il nostro signore gli farà fare di bene dunque tu sei morto così fatti un po' di purgatore e poi vai in paradiso sicuri? per questo la grazia non ce l'ha e il nome della gloria perfeziona il nome della grazia allora non si potrebbe fare come ipotesi dato che l'ipotesi è che alla risurrezione della carne tutti i bambini che sono nel limbo vedranno Dio ma non sarà la stessa cosa per un non battezzato punto interrogativo qualunque cosa abbia fatto sia in bene che in male pensiamo pensiamoci io la risposta me la sono evidentemente data pensiamoci ancora sempre il catechismo in esempio decimo peccano dunque i padri e le madri che per la loro negligenza lasciano morire i loro figli senza battesimo o lo differiscono vediamo stasera daremo qualche conoscenza nuova di qualche peccato mortale come dicevo nell'omelia di questa sera durante le cresime durante le ceneri non durante le cresime durante le ceneri allora sì i padri e le madri che per la loro negligenza lasciano morire i figli senza battesimo peccano gravemente perché privano i loro figli dell'eterna vita attenzione e peccano pure gravemente col differirne a lungo il battesimo perché li espongono al pericolo di morire senza averlo ricevuto cosa sta dicendo che chi ha battezzato un figlio a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi si deve confessare peccano gravemente non è un peccatuccio non è niente no no peccano gravemente chi te l'ha detto che Dio non voglia ma chi te l'ha detto che tu esci con la macchina e hai il tuo figlio di due mesi fai un incidente e quello muore chi te l'ha detto c'è qualche assicurazione per questo fatto c'è qualche filo diretto con il padre eterno chi te l'ha detto che all'improvviso un ragazzino non si ammala di qualche malattia strana di quella che prendono e se ne mora 4 mesi non ci abbiamo la garanzia e quindi potendo fare un battesimo dopo una settimana e tu lo fai liberamente nessuno è obbligato io mi parlo che ho sempre detto se battezzate il figlio entro i primi dieci giorni di vita vi dispenso pure dall'incontrino che si fa per la preparazione che tanto lo si può fare in un altro momento e tanto già se una persona fa questo denota una maturità di fede di animo che rende del tutto superfluo l'incontro di preparazione al battesimo per quanto mi riguarda che ce l'ha a fa ed è superfluo anche per chi questa sensibilità non ce l'ha perché né un incontro né due né tre né quattro né cinque né dieci come fanno in certe diocesi cambia la capoccia di chi va a fa il battesimo tanto perché lo deve fare perché è a tradizione perché così poi facciamo il pranzo al ristorante e da bravi italiani tutto quanto è buono per farsi una magnata no? ecco perché questo è per molti italiani in carità è una cosa anche che è simpatica in altre circostanze però su queste cose un pochino serie un po' meno no? quindi c'è stata confessarsi prossima confessione di chi ha battezzato i figli a tre quattro cinque sei sette otto dieci mesi e se vi rite in faccia il confessore dice tu mi riti in faccia io però al numero 563 del catechismo maggiore di San Pio X sto citando questo in questa sede quindi non la forma ridotta del catechismo della dottrina cristiana dove c'è quella raccomandazione di dieci giorni che ti ho detto prima sappi che il 563 del catechismo maggiore di San Pio X dice questo e quindi io questa cosa me la confesso e vedete dammi la soluzione se può non è non perché ti lamenti che ho confessato una cosa che non dovrei confessare perché se se l'idea che l'ho fatta troppo grossa e lo voglio assolvere pure pure d'accordo ma non che questa cosa non te la devo dire perché è un'esagerazione è un peccato di omissione questo qui noi facciamo una caterva figlioli cari di peccati di omissione senza rendercene conto o senza volerce o senza volercene rendere conto il che è più grave che sempre autogiustificarsi sempre a trovare scappatoio scappatoio gli accomodamenti eccetera eccetera i bambini al fonte battesimale si portano il più presto possibile anche perché un bambino non battezzato colpevolmente da parte dei genitori apro una questione teologica se dovesse poi morire perché sapete i bambini non nati perché abortiti è facilissimo tirarli fuori dal limbo ho già detto tante volte ma un bambino che muore non battezzato perché i genitori sono stati così sciagurati da riferirgli il battesimo è possibile fare il battesimo esposto così come con una messa così come si fa per i bambini abortiti io ho qualche dubbio su questo qualche dubbio ce l'ho non sono per carità non sono certamente infallibile non è neanche il papa se non quando parla ex cattedra è infallibile quindi figuriamoci un povero prete quando sta facendo una catechesi ma io non sono mica tanto sicuro perché mancherebbe la condizione perché la messa per il bambino non nato è immediatamente efficace perché un bambino abortito poverino sia che abbia subito un sopruso per un aborto volontario sia che sia stato abortito nell'aborto spontaneo cioè il genitore non ha potuto battezzarlo anche nel caso che l'abbia ucciso la madre abortendo in ogni caso non c'aveva la possibilità materiale oggettiva di poterlo battezzare e quindi la divina provvidenza e la divina giustizia come dire in un certo senso ci deve dare una possibilità perché non c'ho colpa io nello aver fatto questa cosa e non può ricadere questa cosa che oggettivamente non è stata fatta per impossibilità in maniera irrevocabile e reversibile su quella povera anima di quel povero ragazzino ma se io potevo portarlo a battezzare non l'ho portato e questo è morto questo discorso non vale più perché non c'è l'impossibilità oggettiva c'è la capoccia fracica c'è la poca fede allora San Tommaso da Quino sì penso che ce la facciamo andiamo velocemente così la prossima volta cominciamo i nuovissimi mondi dice sinteticamente che il limbo anzitutto è ciò che la Bibbia chiama inferi o sceol questo luto dice proprio in maniera esplicita nell'antico testamento vi erano i santi padri il cosiddetto limbo dei santi padri padri dove l'unica pena era l'assenza della visione beatifica e la presenza di un desiderio ardente di Dio e lui afferma che quel luogo era un luogo temporaneo perché con l'avvenuta di Cristo cessa di esistere esiste però dice San Tommaso anche il limbo dei bambini dove vanno i bambini non battezzati i quali non hanno né la fede né la speranza della visione beatifica l'unica pena che si soffre qui è quella del danno lui spiega perché perché è ovvio chi non rinasce d'acqua e da spirito non entra nel regno di Dio e conclude però dicendo che i bambini questi bambini avranno comunque una conoscenza naturale di Dio e godranno di molte cose che Dio darà loro ma non avranno mai la visione beatifica ora San Tommaso d'Aguina afferma e su questo a mio modesto avviso non sono l'unico si sbaglia che il limbo dei bambini è eterno io a questa cosa non ci credo personalmente perché mi sembrerebbe profondamente ingiusto cioè privare per tutta l'eternità un po' una povera creatura della visione beatifica che è il fine per cui siamo stati creati senza che ci sia una colpa personale che priva di questo mi sembra veramente fuori luogo per cui diversi autori rivelazioni private per esempio Maria Valtorta affermano che il limbo esiste ma che non è eterno quindi che quando al giudizio universale rimarranno solo due luoghi inferno e paradiso perché ci sarà anche il purgatorio cesserà anche il limbo e tutte queste persone andranno in paradiso certamente in virtù della mediazione della salvezza universale realizzata da Cristo ma attenzione il fatto che ci vadano alla fine perché alla fine perché perché così si dimostra che il battesimo non è acqua calda quindi volendo concludere e ricapitolare questo è in due parole proprio San Tommaso facciamoci una domanda esiste il limbo abbiamo già detto tante volte che non ci sono dogmi però purtroppo il nuovo catechismo non ne cambia ma abbiamo visto che il concilio di Firenze dice definimus definimus e non solo dice definimus ma come abbiamo visto parla anche proprio il concilio di Firenze di scusate parla di pene diverse mentre Giovanni ventiduesimo addirittura parla di diversi luoghi quindi il problema teologico di fondo l'abbiamo capito qui si tratta della necessità del battesimo per la salvezza ecco poi se tutti vanno in paradiso senza battesimo perché dal momento alcune cose sono state dette anche da qualche commissione teologica che non ha certamente valori valore valore magisteriale quello che dice però insomma c'è una certa autorevolezza siccome sembra che anche qualche papa recente abbia apparentemente appoggiato l'ipotesi della non con sussistenza del libro dicendo la misericordia di Dio ha i suoi modi per portare in cielo queste creature io dico sempre amici cari poi bisogna essere però conseguenziali perché c'è gente che dice oggi di abolire il battesimo dei bambini dei bambini addirittura hanno fatto recentemente un intervento l'ho letto qualche associazione laicista probabilmente gli ate razionalisti che dicono no i bambini non si possono battezzare è un atto di imposizione bisogna lo Stato deve proibire una cosa di questo genere perché è una violenza la libertà della persona che ha il diritto di scegliersi la sua religione allora se un pontefice indulge verso queste ipotesi deve essere subito conseguenziale e dire bene non battezziamo più i bambini ah però il pontefice che faccia questo va contro duemila anni di tradizione puoi farlo ma se non esiste il limbo che cosa lo battezzi a farlo ragazzino oggi veramente certi battesimi farli è solo per questo motivo perché se uno stessa guardare i genitori che la fede non ce l'hanno e che certamente non gliela trasmetteranno non parliamo poi dei padrini e delle madrine si fa sempre le guerre mondiali non dico per avere padrini e madrine degne ma per avere padrini e madrine non indegne guerre mondiali cioè già quel battesimo poggia quasi sul nulla proprio su un lumicino perché un battesimo deve poggiare su qualcosa per un adulto ci vuole la fede dell'adulto per un bambino ci vuole la fede del padrino e dei genitori dei genitori ci basta soltanto il consenso quindi uno dice allora che facciamo si continua ad amministrare anche in casi borderline per questo motivo questa pora creatura che colpa ha il battesimo è un dono se more poveraccio almeno lo mandiamo in paradiso e se i genitori sono due sciacurati se la vedranno col Padre Eterno e se hanno scelto un padrino indegno io parlo che non lo so se la vedranno col Padre Eterno sia loro che l'hanno scelto e sia quello che ha accettato che si è vergogna per niente di andare pubblicamente a dire che rinuncia a Satana a nome del battezzando quando lui è il primo a essere un schiavo che vive in peccato mortale Dio non si ride amici cari cioè non è che tu puoi andare a fare il pagliaccio davanti a a cose così serie quindi chi mette un dimenticatoio troppo frettolosamente in limbo sappia bene che incorre in queste in queste difficoltà e che coerenza insegna che se tu fai una cosa di questo genere traine tutte quante le conseguenze poi e assumiti le conseguenze delle conseguenze che trai il gioco di parole perché se la conseguenza è che i bambini non si battezzano allora io ordinerò di non battezzare più i battesimi i bambini scusate e poi mi attirerò evidentemente gli strali di chi mi dà dell'eretico perché io chiunque sia sto andando contro duemila anni di tradizione e abbracciando una dottrina temeraria e offensiva per le scuole cattorie io conosco rivelazioni private non note al grande pubblico dove addirittura è stato detto che il limbo il limbo è popolato quasi quanto l'inferno pensate quanti ragazzini che ci stanno quanti ragazzini ed anime abbandonate più che in purgatorio abbandonate nel senso che stanno lì nessuno ci pensa tutti pensano che sono andati in paradiso cioè voi capite quanto è deleterio pensare che qua oggi si pensa sempre che stanno tutti in paradiso ho detto altre volte non vuoi ripetere sempre le stesse cose muore qualcuno è volato in cielo ma ha volato in cielo è un'espressione che sono per i santi che ti ha volato in cielo pensare che vanno tutti in paradiso è un altro segno della pazzia dei nostri tempi noi dobbiamo sperare che non sono andati dall'inferno il bambino non ha battezzato non serve avere questa speranza sperare che non è andata all'inferno e capire però che ci hanno tutti che hanno bisogno di noi sia l'anime del limbo che l'anime del purgatorio e se qualcuno va direttamente in paradiso è meglio per lui ma questo è non possiamo mica darlo per scontato vabbè l'ho già detto queste cose quindi vorrei evitare di ripetere per un'altra volta bene amici con questo possiamo archiviare quanto era necessario dire sul limbo alla prossima volta cominceremo il discorso sui cosiddetti nuovissimi mondi cioè quelli che riguardano la chiesa quindi la collettività e l'umanità nel suo insieme al momento soprattutto della parousia e del giudizio universale una santa notte a tutti Dio vi benedica e la santa vergine tutti e sempre vi protegga grazie a tutti